Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Beppo e oggi siamo qui in compagnia di Ale Bella E siamo qui nella nostra fazione su questo server Park Aircraft E siamo qui per dirvi che stiamo tornando dopo questo periodo di vacanza, quindi riprenderemo a fare video e basta, quindi qua c'è la nostra zona, la zona vips, mi piace Beppo con Vanessa, non so chi sia Vanessa, mi ha messo Ale il cartello, Lori e Ale, Lori in questo momento non c'è, qui sotto ci sono le portole, naturalmente mi ha fatto una dedica, Riff, Geppi, i tuoi cari ti mandano un coloroso abbraccio, grazie amici, vi voglio bene anch'io, e ci sono le prigioni, per tutti gli schiavi che diranno le regole, li impediremo di soltarsi la home da qualche parte, qui ci sono le ceste a caso, sopra la stanza delle ceste l'avete già vista, è sempre la nostra zona dove gli scavino e non entreranno, e poi invece qua ci sono già un sistema molto elaborato a colori, qui c'è la zona della F home, qui c'è il super esempio qua c'è di robottone, e adesso entreranno anche tutti gli altri, dopo questo video, ok, io direi che qua ci sono le ceste sempre per loro, anche qui, ah è qui esatto, lo fate vedere, inceneritore, inceneritore, e Ale, o meglio Luca 3, ha fatto uno scivolo anti AFK, esatto, quindi tu devi andare al cesso, provo il nuovo scivolo anti AFK di Ale, questo ti permetterà di andare in bagno senza particolari problemi di disconnessione dal server, ecco, danno anche tu il tuo 5 per 1000, guardiamo se PC Gamer ci da qualcosa, quindi andiamo al slash Warp, Mob, Ale, no però, cambio armatura, armatura scazzola o incontri, c'ha 30 livelli per il piccolo Ale che deve incantarsi le cose, oddio, oddio, c'è il mondo qua dentro, aspettami che arrivo, Grazie a tutti! 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 E' la testa direttamente! E' la testa direttamente! Ok, pronto? Ti incanto! attenzione prot 4 attenzione attenzione ok ragazzi come avete visto in alto a sinistra è apparso qualcosa di assai misterioso ebbene noi abbiamo i raggi x quindi useremo questi raggi x per trovare delle fazioni di altri membri e svaliggiare non c'è una qualche casetta spastica no ok lei mi ha inviato stai qua nocetto ok no no non in mezzo al mare no 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 si è già accettato è accettato adesso vai picchio vai picchia 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 bella bella oddio che sapeva tnt pieno biscotti pieno ferro pieno vecchia mia da qua sono fabec no no vabbè tranquillo lo uccidiamo c'è un tipo non mazzo bene non è niente aspetta killati in un colpo di renditi conto è quello di prima hai accettato non posso accettarti in un combattimento aspetta un attimo che si toglie quindi ragazzi per questo episodio breve penso è tutto un saluto e la nostra fazione fra poco si rompirà di subiti e di carcerati immagino esatto quindi toglierò le coordinate che vedete in alto a sinistra che non vedete anzi in alto a sinistra perché li toglierò se no arrivano i nerd si griffano tutto anche se si è troppo forte e ben climato tutto ma va bene quindi io direi che noi ci vediamo in un prossimo episodio bella bella